Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi presento la nuova edizione di Room 25, gioco della Matagot, in questa edizione italiana che vedete qui davanti a cura di Asmod Italia, che io come sempre ringrazio immensamente di cuore per la copia e recensione fornita. Room 25 è un gioco famoso, che molti di voi sicuramente conosceranno, e in questa versione Ultimate ci presenta un pacchetto completo anche di Season 2, e quindi con tile e regole aggiuntive, ed è un gioco da, se non erro, 1 a 8 giocatori, della durata più o meno di 45 minuti, un'oretta, dove si potrà giocare sia in maniera cooperativa che competitiva, e secondo me nella maniera competitiva è proprio il vero spirito di questo gioco, in un titolo che ci ricorda un po' un film, se vogliamo, alla The Cube. Film che io, negli anni 90, forse i primi 2000, insomma, ho apprezzato veramente, veramente tanto. Ve ne parlo a breve, dopo la sigla. Room 25 Ultimate, in questa nuova edizione, scatola nera, a cura di Asmod Italia, è un gioco che ci vede far parte di un gruppo di persone che partecipano a un programma televisivo. Mi riviene anche un po' in mente l'uomo in fuga, The Running Man, ad esempio, come opera o come film, o appunto, come detto poc'anzi, in fase di sigla, di Cube e Hypercube, perché noi faremo parte di questo programma televisivo che verremo inseriti in questo complesso, che è niente un po' di meno che una specie di labirinto mobile, e dovremo riuscire a salvarci. Il gioco può essere giocato in maniera cooperativa, dove tutti siamo insieme e tutti dobbiamo salvarci, o in maniera competitiva, dove, a seconda del numero dei player che ci saranno, e ricordo, da 1 a 8, 1 o più, saranno degli agenti delle guardie, per meglio dire, sotto copertura, e quindi qui c'è la parte del gioco che io adoro, perché mi ricorda molto Nemesis, dove uno gioca insieme agli altri, ma coperto, dove effettivamente magari ho anche la cosa, magari è il cattivo. Quindi 1 nel mezzo al gruppo, 1 o più, ad esempio nella partita 4 giocatori, 3 sono i sopravvissuti che si devono salvare al gioco, e 1 è la guardia che deve fare di tutto affinché non si salvino. Quindi 1 giocherà sempre, nella maniera normale, a carte coperte, a ruolo coperto, mentre gli altri giocheranno invece tutti insieme. A seconda della missione si va a comporre la mappa di gioco, e andando a comporre questa mappa di gioco, i 4 angoli, quindi nord-est, nord-ovest, sud-est e sud-ovest, saranno le zone di uscita. Noi all'inizio del gioco, del turno, ci troveremo in questa stanza centrale, e ciascuno dei nostri personaggi potrà fare 2 azioni, scelte fra 4. Queste azioni che dovrà fare saranno rappresentate da dei token che dovrà mettere sulla sua scheda coperti, e l'azione può essere osservare una stanza, quindi poter girare l'esagono di una stanza adiacente per vedere cosa c'è sotto e ritapparla, e anche in maniera cooperativa non potete dire a quegli altri cosa c'è, sarebbe troppo facile. Oppure può muoversi in una stanza, esplorata o no, ovviamente entra in una stanza inesplorata, la girate dall'altro esplorato, spingere un altro giocatore, perché è possibile spingere un giocatore in un'altra stanza, e quella appena ci entra prende subito i bonus o i malus di quella stanza, e poi spostare le tessere. Perché, come detto, ricorda un po' appunto il film The Cube, nella modalità competitiva sarete voi a spostare le tessere, mentre in quella cooperativa saranno alcune carte di gioco, che sono carte evento, che faranno spostare avanti una fila. Non si può mai spostare praticamente la croce della fila, dove al centro c'è la stanza di partenza. La stanza di partenza non si può spostare. Però se, ad esempio, voi spostate una verso destra o verso sinistra, il senso, come volete voi, una stanza, basta che le fate scorrere in avanti e quella che buca fuori dal complesso la rimettete da principio. Quindi, comunque, come gioco è molto semplice. Lo scopo del gioco è quello di trovare la chiave nella stanza della chiave e poi, spostando tutte quante le tessere, riuscire tutti quanti, non soltanto uno, perché qui si vince e si sopravvive come squadra, non vince solo uno, scappare verso l'uscita spostando la stanza 25, infatti la room 25, al momento che avrete trovato la chiave, potrete entrare nella stanza 25 e, spostandovi insieme dentro alla stanza 25, la dovrete portare in uno dei quattro angoli, come vi ho detto nel suo video, di uscita. A quel punto avrete vinto la partita. Nelle missioni ci sono anche robot, quindi robot che cercheranno di venirvi incontro e di bloccarvi o anche addirittura uccidervi spostandovi nelle varie stanze e vi ricordo che ci sono regole opzionali della season 2 che potete utilizzare per avere molte più stanze, stanze addirittura che soffocano, stanze che uccidono, stanze che bloccano, oppure anche semplicemente, ricordo anche un po' solo enigmista, oppure anche semplicemente altri tipi di carte di gioco, quindi ci saranno la possibilità di inserire carte che vada a dare randomicità alle stanze che si sposteranno, appunto, come detto a poc'anzi, visto in chiave puramente cooperativa, perché in fase competitiva invece siete voi con le vostre azioni che le andate a spostare. La componentistica è carina, le miniature non sono niente di che, però sono carine per rappresentare e ricordo che il giocatore che farà la guardia giocherà a carte coperte anche fino alla fine, anche quando la stanza 25 sarà rivelata, potrà giocare a carte coperte, ma ci saranno delle regole particolari per cui lui si dovrà per forza di cose andare a rivelare e rivelando si potrà fare le sue solite due azioni senza più giocare le coperte, le può scegliere semplicemente quando è il suo turno senza mettere le coperte, così da avvantaggiare e cercare di prendere tutti gli altri, perché ricordo che il suo ruolo è quello di bloccare l'uscita ai giocatori nella fattispecie in una partita a 4 giocatori deve su 3 prenderne 2, quindi se riesce a metterne KO2 che non scappino con la stanza 25 in uno degli angoli, ha vinto la partita. Il gioco, ragazzi, è semplicissimo. In conclusione, questo Room 25 versione Ultimate è un gioco veramente interessante, è un gioco veramente carino, è un gioco che c'è da leggere poco, a parte sì le descrizioni delle stanze, questa fa questo, questa fa questo, ma tanto ce l'avete scritta da tutte le parti, anche sul manualetto, quindi non vi potete sbagliare, poi fatte due o tre partite non sono 80 stanze, quindi ve le ricorderete, ed è un gioco, secondo me, che si può provare a mettere a tutti i tavoli. Forse, messa a un tavolo di prettamente giovani rispetto ad altri, sarebbe meglio farlo giocare in cooperativo, non per altro, per non fare troppo competizione, magari un pochino accanita, perché se sei una guardia, devi mandare a morte un compagno di squadra, perché non è un fatto di fargli perdere la partita, è proprio di mandarla a morire. Quindi comunque, su quel lato lì, forse però, fondamentalmente, i giochi da tavolo vanno fatti con la giusta mentalità, che sia soltanto un gioco, capito? Quindi, basta che il ragazzino sia accompagnato da qualcuno di un pochino più grande, insomma, si fa anche sentire molto meno il tema del gioco, però, per me, come ribadisco, è un titolo che si può provare a mettere a tutti i tavoli. Una partita, perlomeno di prova, si fa a tutti, e non è, non è un gioco di nicchie, commettiamola così, è un gioco alla portata di tutti. Ringrazio di cuore Asmo d'Italia per la copia fornita, se ne volete ordinare una copia, primo link in descrizione, come sempre, in sovraimpressione, dalla gioco libreria Semola, nostro negozio sponsor, non soltanto al miglior prezzo sul mercato, ma se andate sul sito, scrivete Room25 Ultimate, il gioco è finito, non ce n'è più copie, oppure proprio non è in lista, non risulta, scrivete al supporto tramite il sito, alla gioco libreria Semola, e fateli presente che arrivate dal mio canale, dal canale di Coridan. Gioco libreria Semola su prodotti finiti o proprio fuori catalogo, ve ne ordinerà altre copie solo per voi, e ricordate di utilizzare sempre il codice discount Coridan7 per avere uno sconto del 7%. Mi raccomando, non vi demoralizzate, se andate sul sito e il gioco presentato in un qualsiasi mio video, anche del passato, non è presente, scrivete perché magari ve lo trova. Ovvio se è reperibile, un gioco di 10 anni fa che è impossibile da trovare, se non dai bagarini, non ce l'ha, ma anche un gioco di qualche anno fa che è ancora sul mercato magari ristampato, si trova tranquillamente. spedizioni gratuite sopra i 79 euro di spesa in tutta Europa, ordinate 48 ore e vi arriva a casa. Quindi, Gioco libreria Semola è, secondo me, il servizio o uno dei servizi top che troverete online, soprattutto in fatto di competenza e cortesia. Ciao ragazzi, alla prossima! Se questo video ti è piaciuto, lascia un like e clicca sulla campanella per essere sempre aggiornato, ricevere notifiche e non perderti nemmeno un video in uscita. Primo link in descrizione, primi link che trovate, ricordatevi sempre di iscrivervi anche al canale Facebook, al canale mio di Live Twitch, alla mia pagina Instagram e alla mia pagina TikTok che sono sempre aggiornate e su Twitch mano a mano troverete la programmazione aggiornata con tutte quante le live del giorno. Quindi guardatela sempre perché ci sarà sempre la programmazione aggiornata. Mi raccomando, iscrivetevi soprattutto ai social perché sono sempre aggiornati e se devo comunicare qualcosa anche per il canale YouTube lo troverete sempre lì. Ciao, alla prossima!